Un colpo di propaganda, peraltro imprecisa, è andato a vuoto. Ha tentato di metterlo a segno Sergei Razov, ambasciatore russo in Italia. Sul profilo Twitter dell'ambasciata di Russia ha pubblicato la foto di un blindato colpito da un missile russo vicino a Bakhmut in Ucraina. Il mezzo sarebbe stato identificato come un Iveco-Lince MLV con blindatura antimine regalato dall'Italia all'Ucraina. Nella didascalia del tweet, in un italiano non proprio cristallino, tutti i contribuenti italiani sono felici con tale destinazione dei loro soldi? Il sito Open però indaga e scopre l'errore, anzi la fake news. Il blindato nella foto, infatti, è un altro modello, il Tecne MLS, sempre made in Italy, ma non donato all'Ucraina, bensì regolarmente acquistato e pagato dal governo ucraino dell'ex presidente Petro Poroschenko alla Tecne, azienda metalmeccanica di Ortona in provincia di Chieti. Quindi si tratta di una bufala? Proprio così. Perché persino l'unica fonte dell'ambasciata russa, un profilo di Telegram, smentisce che il blindato sia un lince e conferma che si tratta di un Tecne. L'imprecisa propaganda russa è servita.